Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare queste questo maxi che ho chiamato fior di baci, chi mi segue sui social sa che l'ho deciso di chiamare così perché il filato che ho utilizzato fa parte del pacco offerta che trovate sul sito uncinettando con i filati che si chiama appunto fior di baci e in questo pacco sono presenti tre tipi di filati diversi e sono il fior di cotone lame che io ho utilizzato ed è questo qui questo colore panna con il lame anche se dalla telecamera non si vede ma il lame, il baci rubati della mistrico filati anche questo micofibra con la me e in più mi abbasso così lo potete vedere anche il filato velluto che ho usato per fare lo scaldacollo di questo maxi pullover qui ci sono, per questo pacco offerta sono presenti altri colori, sono quattro pacchi mi sembra in totale e questo colore quello che ho scelto io è il pacco numero 3 che è appunto mezzo chilo di questo filato fior di cotone panna, mezzo chilo del baci rubati e un gomitolo del velluto con cui si riesce a fare questo bellissimo scaldacollo che mi vedete indossato per poter realizzare questa maglia che comunque è una taglia sm però vedete mi va larga quindi è una maxi pull, io ho utilizzato 200 grammi del fior di cotone, 200 grammi del baci rubati e il gomitolo di velluto con quello che mi ha avanzato del filato perché vi ricordo che per ogni colore sono 500 grammi non so ancora bene cosa farò ma penso a qualche giacchettina o se no anche una piccola stola da poter o copri spalle da poter indossare sopra questo maxi pull ma come partiamo per il maxi pull è a top down quindi si parte dall'alto mi tolgo così lo potete vedere si parte dall'alto e la lavorazione è veramente semplice si va ad allargare fino a creare questo diciamo alternanza di ventagli grandi a ventagli piccoli quando si arriva all'altezza degli scalpi io poi ho lavorato il corpo della maglia con il fior di cotone mentre la parte superiore e il braccio e le maniche scusate l'ho lavorato sempre con i baci rubati l'uncinetto utilizzato è 3,5 la lavorazione è semplicissima e alla fine sono andata a creare questo morbidissimo scaldacollo da poter indossare sopra il mio sopra il mio pull over vedete potete indossarlo così bello largo in modo da sembrare un collo oppure potete tenerlo così se volete coprirvi di più dietro al collo quindi è perfetto per essere indossato in maniera molto diversa detto ciò spero che anche questa creazione molto semplice vi piaccia che desiate realizzarla e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina facebook l'uncinettando conenza o sul gruppo facebook la libertà di uncinetare sferruzzare o se avete acquistato il mio stesso filato presso il sito web uncinetando con i filati o la merceria coleti potete agganci sul facebook della merceria coleti o su instagram su uncinetando con i filati e su instagram mi troverete anche come essa faccio e noi come sempre ci vediamo al prossimo video tutorial per realizzare la nostra maglia top down io ho deciso di utilizzare il filato che è presente nel pacco offerta a fior di bacio che prevede il fior di cotone la me della teresa del cursini tre stelle e il bacino batti da mistrico filati più un gomitolo del velluto sempre base sempre mistrico allora io lavorerò con un cento e 3,5 o inizierò con il baci rubati e ho montato 120 catenelle la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 8 e questo è il mio scollo mi raccomando se siete una taglia più grande o se volete una taglia e se volete lo scollo più grande a tenete appunto presente che bisogna aumentare sempre di 8 catenelle io direi per un taglia m se usate lo stesso filato mio di andare ad aumentare solo di due motivi taglia l quattro motivi se stato utilizzando un filato un po più sottile allora dovete andare aumentare il numero di catenelle però ricordatevi sempre che questo è lo scollo quindi non esagerate facendolo troppo largo a questo punto possiamo andare a fare il nostro primo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo salto 3 catenelle entro nella quarta realizzo una maglia alta rientro seconda maglia alta catenella di separazione rientro altre due maglie alte una due prendo il filo salto 3 catenelle e ricomincio da capo entrò nella quarta e la di zona maglia alta prendo il filo salto 3 catenelle entro nella quarta e realizzo 2 maglie alte una e rientro 2 catenella di separazione rientro altre due maglie alte 1 2 prendo il filo salto 3 catenelle ricomincio da capo facciamo un piante insieme entrò nella quarta e realizzo una maglia alta prendo il filo salto 3 catenelle realizzo 2 maglie alte una 2 catenella di separazione prendo filo rientro altre due maglie alte una 2 prendo il filo salto 3 catenelle ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio primo giro sto terminando il primo giro ho fatto il ventaglio entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima secondo giro va a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta quindi una due tre catenella di separazione prendo il filo rientro nella maglia alta e vado a fare una maglia alta prendo il filo entro nell'archetto di una catenella del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio quindi 2 maglie alte una 2 catenella di separazione rientro altre due maglie alte una 2 prendo il filo e ricomincio da capo quindi entro nella maglia alta e realizzo una maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta prendo il filo vado nell'archetto di una catenella e realizzo 2 maglie alte una 2 catenella di separazione rientro altre due maglie alte una 2 prendo il filo e ricomincio da capo facciamo tutti insieme vado dove ho la maglia alte realizzo una maglia alta due catene una catenella rientro un'altra maglia alta vado dove ho la catenella del ventaglio e realizzo il mio ventaglio quindi 2 maglie alte una 2 catenella di separazione rientro altre due maglie alte una e due e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio secondo giro sto terminando il secondo giro e vado a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella e vado a fare il terzo giro e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo entra nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta prende il filo vado dove ho la maglia alta realizzo una maglia alta vado dove ho l'archetto di una catenella del ventaglio di nuovo da fare il mio ventaglio quindi 2 maglie alte una e rientro 2 catenella di separazione rientro e di nuovo 2 maglie alte una e due e ricomincio da capo quindi vado dove ho la maglia alta realizzo una maglia alta vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta prendo il filo vado la maglia alta realizzo una maglia alta vado nell'archetto del ventaglietto e realizzo il mio ventaglietto quindi due maglie alte una e due catenella di separazione rientro altre due maglie alte una due e ricomincio da capo facciamo altri molti insieme vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta entra nell'archetto realizzo una maglia alta catenella di separazione e rientro un'altra maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta vado nell'archetto di una catenella al ventaglio da fare mio ventaglio quindi due maglie alte una e due catenella di separazione rientro altre due maglie alte una e due e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio terzo giro sto terminando anche il terzo giro vado a fare le mia la maglia bassissima all'interno della terza catenella quarto giro vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo vado nell'archetto di una catenella e realizzo due maglie alte una due catenella di separazione rientro altre due maglie alte una e 2 prendo filo vado sull'ultima maglia alta vedete qui ne ho due vado sull'ultima e realizzo una maglia alta prendo il filo vado nell'archetto di una catenella e vado a fare il mio ventaglio quindi due maglie alte una e due catenella di separazione rientro altre due maglie alte una e due e ricomincio da capo quindi vado nella prima delle mie quattro maglie alte realizzo una maglia alta vado nell'archetto di una catenella realizzo due maglie alte una e rientro due catenella di separazione rientro altre due maglie alte una e due vado dove ho la maglia l'ultima delle mie quattro maglie alte vado a fare una maglia alta prendo il filo vado nell'archetto della ventaglia vado a fare il mio ventaglio quindi due maglie alte una e due catenella di separazione rientro altre due maglie alte una due e ricomincio da capo quindi vado dove ho la prima delle mie quattro maglie alte realizzo una maglia alta vado nell'archetto di una catenella e realizzo due maglie alte una 2 catenella di separazione rientro altre due maglie alte una due vado dove ho l'ultima maglia alta realizzo una maglia alta vado nell'archetto il ventaglietto di uno realizzo due maglie alte una e due catenella di separazione rientro altre due maglie alte una e due e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio quarto giro sto terminando anche il quarto giro vado a fare sempre una maglia bassissima all'interno della terza catenella quinto giro vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta quindi 1 2 3 catenella di separazione vado nell'archetto del ventaglietto e vado a fare il mio ventaglietto quindi 2 maglie alte una e rientro 2 una catenella rientro altre due maglie alte una 2 catenella di separazione ricomincio da capo vado la maglia alta e realizzo una maglia alta catenella di separazione vado dove ho l'archetto del ventaglietto realizzo il mio ventaglietto quindi due maglie alte una e rientro 2 catenella di separazione rientro altre due maglie alte una 2 catenella di separazione ricomincio da capo facciamo tutte volte insieme vado la maglia te realizza una maglia alta catenella di separazione vado nell'archetto del ventaglietto realizzo il ventaglietto quindi 2 maglie alte una e due catenella di separazione rientro altre due maglie alte una 2 catenella di separazione ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio quinto giro sto terminando il quinto giro ho fatto la catenella di separazione entrò nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima sesto giro e vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta catenella di separazione rientro nella maglia alta realizza una maglia alta catenella di separazione vado nel ventaglio realizzo il mio ventaglio quindi due maglie alte una e rientro 2 catenella di separazione rientro altre 2 maglie alte una 2 catenella di separazione ricomincio da capo va dove ho la maglia al terrizio una maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta catenella di separazione vado doveva la catenella al ventaglio e alizio mio ventaglio quindi due maglie alte una e due catenella di separazione rientro altre 2 maglie alte una e due catenella di separazione ricomincio da capo facciamo un'ultima volta insieme va dove ho la maglia alta realizzo una maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta catenella di separazione vado dove ho l'archetto di una catenella e vado a realizzare due maglie alte una e due catenella di separazione rientro altre due maglie alte una e due catenella di separazione ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio sesto giro sto terminando anche il sesto giro dove il fatto la catenella entrò nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima settimo giro vado a realizzare tre catenelle che sono mia prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo entrò nell'archetto di una catenella realizzo una maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta catenella di separazione vado dove ho l'archetto di una catenella e vado a fare il mio ventaglio quindi 32 maglie alte una e due catenella di separazione rientro altre due maglie alte una due catenella di separazione e ricomincio da capo quindi vado dove ho la maglia alta realizzo una maglia alta entro nell'archetto di una catenella realizzo 2 maglie alte una due catenella di separazione rientro scusatemi scusatemi ho sbagliato entro mentre nell'archetto di una catenella e faccio una maglia alta catenella di separazione rientro e faccio un'altra maglia alta vado dove ho la maglia alta realizzo una maglia alta catenella di separazione vado nell'archetto di una catenella del ventaglio vado a fare il mio ventaglio quindi due maglie alte una e due catenella di separazione rientro altre due maglie alte una due catenella di separazione e ricomincio da capo quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta entro nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta catenella di separazione vado nell'archetto di una catenella del ventaglietto realizzo mio ventaglietto quindi due maglie alte una e due catenella di separazione rientro altre due maglie alte una due catenella di separazione e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio settimo giro sto terminando il mio sesto giro ho fatto la maglia alta entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima allora io non devo fare più aumenti quindi mi va bene continuare a lavorare in questa maniera se poi invece dovete fare degli aumenti vi spiegherò come fare con una maglia bassissima entro dentro e vado a fare una maglia bass bassissima quindi mi porta all'interno dell'archetto e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta catenella di separazione rientro e faccio una maglia alta catenella di separazione e vado a fare il ventaglio per chi deve continuare ad allargare invece di una catenella di separazione ne va a fare due quindi entro nel ventaglio di nuovo da fare due maglie alte una due catenella di separazione rientro altre due maglie alte una e due catenella di separazione ricomincio da capo mentre chi ha bisogno di allargare vado a fare due catenelle quindi poi ricominciamo e andiamo nell'archetto del ventaglie del ventaglio piccolo e andiamo a fare una maglia alta una catenella di non un'altra maglia alta catenella di separazione chi invece di aumentare ne va a fare due entrò nel ventaglio vado a fare il mio ventaglio quindi due maglie alte catenella di separazione rientro altre due maglie alte una e due catenella di separazione ricomincio da capo quindi scrivere aumentare invece di fare una catenella di va a fare il 2 se dovete avventare di parecchio fate due catenelle ovunque altrimenti potete fare una volta catenelle catenella qui sua catenella catenella e quindi deve fare due due dipende un po da quanto dovete allarcarla in realtà potreste anche fare un'altra cosa invece se non la volete forata quindi non volete troppe catenelle di separazione qui dove abbiamo la maglia alta a potete andare a fare invece che una maglia alta fare un ventaglio come qui in modo tale da avere il ventaglio che cresce anche qui che vi separa e quindi avere ventaglio catenella ventaglio catenella e quindi avere il ventaglio uguale a questi due questo se volete allargare senza dover troppo forare la maglia io continuerò a lavorare in questa maniera vi dirò alla fine quante volte ripetuto questo giro prima ad arrivare da fare gli scaldi sono andata a contare le strisce di maglie di diventa di grandi e ne ho un totale di 30 quindi ho fatto ne ho messi 6 per ogni spalla e per ogni manica e 9 avanti e 9 dietro ripeto io ho contato le strisce di mai di ventaglia 2 maglie e ne ho 30 e ne ho messe 6 per le spa per le maniche 9 avanti e 9 dietro e ho messo il marcatore dove ho l'archetto di una catenella del ventaglietto fatto di una maglia alta quindi sia da questa parte da questa parte sia da questa parte che da quest'altra parte e adesso io inizierò a lavorare con l'altro filato utilizzando sempre il 3,5 e voglio farvi vedere subito subito come si fa a passare dal dietro al davanti la lavorazione sempre uguale quindi il giro che andiamo ripetere è sempre lo stesso però andiamo come ho detto a cambiare filato quindi prendo il filo e mi aggancio qui dove ho il ventaglietto grande quindi mi aggancio con il filo e vado a fare i miei 3 catenelle che sono mia prima maglia alta rientro dentro un'altra maglia alta catenella di separazione rientro altre due maglie alte una e due catenella di separazione mi trovo dove ho il marcatore tolgo quindi il mio marcatore così vedete meglio e lavoro in questa maniera prendo il filo entro nell'archetto del ventaglio avanti entro in quello dietro e vado a fare una maglia alta catenella di separazione e di nuovo entrò nel ventaglio avanti entrò nel ventaglio dietro e vado a fare una seconda maglia alta vedete ho così creato questo lo scalfo della manica e questo incrocio catenella di separazione e adesso vado scusate vede un po di filo a lavorare normalmente quindi entro dove ho l'archetto di una catenella e vado a fare il mio ventaglio quindi due maglie alte una e due catenella di separazione rientro altre due maglie alte una 2 catenella di separazione vado nel ventaglio piccolo e vado a fare una maglia alta una catenella rientro un'altra maglia alta catenella di separazione e continuo così fino ad arrivare al prossimo marcatore dove anche in quel caso vi mostrerò come tornare di nuovo sul davanti sono arrivata al secondo marcatore lo levo così vi faccio rivedere come fare per passare di nuovo dall'altro lato allora ho fatto quindi il mio ventaglio grande e la catenella di separazione prendo il filo entro nell'archetto del ventaglio del davanti di una catenella entrò in quello dietro e vado a fare una maglia alta un po di fili ok catenella di separazione di entro davanti esco dietro e vado a fare un'altra maglia alta catenella di separazione e passo dietro lasciando quindi qui aperto lo scalfo per le maniche e continua lavorare quindi nuovo normalmente quindi vado a farmi due maglie alte nell'archetto di una catenella una e due catenella di separazione rientro e due maglie alte una due catenella di separazione continua normalmente quindi questo è il giro che andremo sempre a fare naturalmente se farò qualche altra modifica ve lo farò sapere penso che adesso io lavorerò sempre fino alla fine con questo filato mentre le maniche vi farò vedere come farle naturalmente vi dirò quanto è venuto lungo al corpo tornerò a farlo con il marrone in montare da per la parte sopra le maniche di un colore la parte sotto di un altro dunque io ho lavorato fino alla lunghezza desiderata e ho ripetuto il mio giro per 47 centimetri quindi d'acqua fino alla fine ho ripetuto 47 ho ripetuto fino ad arrivare una lunghezza di 47 centimetri e come lunghezza per me ci siamo adesso possiamo andare a fare la nostra manica vi farò vedere solo il primo giro lavorerò sempre con il con l'uncinetto del 3,5 e mi aggancio sempre con il mio usate recupero il filo come vi ho detto voglio lavorarla con il colore marrone quindi ritorno a lavorare con i baci rubati per fare la manica mentre sotto lavorato sempre esclusivamente col fior di cotone per poter lavorare la nostra manica vi faccio vedere appunto come inizia il giro si lavora intorno quindi si lavora esattamente come abbiamo lavorato qua sotto io vado dove avevo qui il basso dove ho fatto il mio lo scatto delle maniche prendo il filo entro e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta catenella di separazione e poi vado a lavorare normalmente dove al ventaglio vado a fare il mio ventaglio con le due maglie alte quindi due magliette una due catenella di separazione rientro altre due maglie alte una due catenella di separazione ventaglio piccolo quindi maglia alta catenella rientro maglia alta catenella di separazione ricomincio è questo il giro che andrò sempre ripetere terminerò sempre facendo una catenella ed entrando nella terza catenella iniziale e ripeterò sempre lo stesso giro mi raccomando se avete bisogno di aumentare diminuire se dovete aumentare allargare di poco passate a lavorare l'uncetto del numero 4 se dovete allargare di molto andate a fare i due catenelle se invece dovete stringere invece di lavorare col 3 passate a lavorare con invece di lavorare col 3 e mezzo lavorate con i tre oppure togliete le catenelle di separazione questo se volete stringere la manica io continuo alla fine video quante volte ripetuto il giro e quindi quanto mi è venuta lunga la manica penso solo vorremmo arrivare fino al polso ma non sono ancora convintissima magari mi fermo un po prima sapete che ho sempre il problema dei bracciali che si possono incastrare è però vi farò sapere bene è dopo io per adesso continua a lavorare questo giro ho ripetuto il giro per tutta la mia manica per un totale di 30 volte 30 38 volte quindi ripeto ho ripetuto il giro per 38 volte sono arrivata quindi al mio polso non farò bordini e adesso farò l'altra manica e quindi la mia maglia sarà così terminata una terminata la maglia con il velluto che vi ricordo che fa parte del pacco offerta farò il ho deciso di non fare più una cintura mi sta bene la maglia che vada larga non voglio metterci una cintura ma farò un bello scaldacollo da poterci abbinare sopra per poter realizzare lo scaldacollo io utilizzerò quindi il gomitolo del velluto che è sempre mistrico filati e lavorerò con uncinetto del numero 8 ho montato 60 catenelle che adesso andrò a chiudere in tondo vedrete che la lavorazione viene molto larga proprio perché grazie a usare l'uncento dell'otto il velluto resta molto morbido che già di per sé comunque un filato morbidissimo e a questo punto possiamo andare a fare il nostro primo giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo vado nella scusate 3 e una catenella di separazione quindi 4 prendo il filo rientro nella stessa catenella di base e vado a fare una maglia alta prendo il filo salto 3 catenelle entro nella quarta e di nuovo da fare una maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta e ricomincio da capo salto 4 catenelle salto 3 catenelle entra nella quarta e vado a fare una maglia alta una catenella rientro un'altra maglia alta continuo così per tutto il mio primo giro non c'è bisogno di andare a fare ulteriormente perché lo scaldacollo viene molto largo quindi noi dobbiamo solo andare a salire in altezza quindi non vi dico se si è una taglia più grande di montare qualche maglia in più perché comunque entra tranquillamente all'interno della testa continuo così primo giro vi farò vedere poi secondo sto terminando mio primo giro fatto l'ultima maglia alta entra nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima adesso dovrò fare altro che ripetere questo giro quindi vedete non si tratta di uno scaldacollo molto chiuso è qualcosa comunque di abbastanza forato da poter mettere comunque sopra la maglia che abbiamo realizzato e andiamo a lavorare in questa maniera andiamo a fare una maglia bassissima all'interno del ventaglio e non andiamo a fare il nostro ventaglio quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta catenella di separazione rientriamo un'altra maglia alta prendiamo il filo andiamo nel ventaglio successivo e di nuovo maglia alta catenella rientriamo maglia alta bene questo il giro che andremo sempre a ripetere per tutta la lunghezza all'altezza del nostro scaldacollo io alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto il giro penso di riuscire a ripeterlo almeno 45 volte quindi verrà uno scaldacollo non altissimo ma abbastanza per quello che essere soltanto comunque un oggetto più che altro di che faccia scena sulla maglia per renderla per dare quel tocco di eleganza in più quindi ripeto adesso continuo a lavorare vi dirò naturalmente alla fine quanti giri ho fatto finendo tutto il mio gomitolo e poi quindi la nostra maglia con scaldacollo sarà terminato alla fine sono riuscita a fare 9 giri 1 2 3 4 5 6 7 o scusate 8 giri e poi visto che aveva ancora un po di filato ho rifinito il tutto con un giro di maglie basse utilizzando sempre il uncinetto del numero 8 quindi anche lo scaldacollo da abbinare alla nostra maglia è terminato grazie a tutti